Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno che ci dimostrano i ragazzi, ova rammatica varie, oltre a poco non mi dà fare un passaggio. E' una foto con la seconda, e' una seconda fatura, che dimostrano i ragazzi, e' una seconda di vera si chi va a tutto il risposto di condividere, e' un'altra cosa che ci dimostrano, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.